Sono a tiro qui per il Coss, per la vita ci abbiamo il mostro di Coss, vai piano se mi chiamiamo il Coss, faccio scendere subito evidentemente, fare un po' con il galletto, un po' con il Coss, sono arrivati al punto che lui mi porta in giro a me, hai visto? Perché ormai è vecchia, ormai sono vecchia insomma, se non vai piano se non guarda bene la strada, la prima sarà felicissima di vedersi in questo bel vento, Eccoci qua, Lucianino quasi prossimo ai 18.